...mi auguro che quest'anno ci sia l'apertura per la nuova stagione che un altro anno di veda si parla per la vista assieme. La gara si svolgerà quest'anno nel segno di un protagonista che purtroppo non c'è più, sarà nel segno di Brio per ricordare una persona carissima alla città che partecipava sempre con entusiasmo e con delizioni a questa manifestazione, per cui sarà il modo di guardarlo facendo quello che piaceva fare a luce, divertendosi allo scopo finale della solidarietà, perché ovviamente è sempre stato legato appunto ad Alinte e questo ci gratifica, questo fa sì che i partecipanti siano sempre numerosi, ci saranno i fantini del Brio, i barbareschi, i capitani, gli ex dirigenti, per cui sarà il modo di trascorrere veramente una bella giornata, l'invito è di partecipare al pubblico, lo faremo in sicurezza, di partecipare al pubblico, lo faremo in sicurezza, per cui sarà un modo di trascorrere la domenica di compagnia. Grazie a tutti.